Credo davvero che il valore del censimento dell'Istat sia già una questione in sé. Il fatto che l'Istat decida di fare un monitoraggio complessivo di tutte le attività del suo settore, volontariato, associazionismo di promozione sociale, cooperazione sociale, eccetera, è un valore importante perché restituisce informazioni, dati, opportunità di conoscenza. E nel periodo in cui siamo, un periodo di riforme, è chiaro che conoscere per decidere è fondamentale. Le criticità sono molte, temiamo di essere fin troppo spesso accostati al settore del profit. L'attività, l'impegno civico dei cittadini è un'altra cosa, ha un valore in sé, ha un valore al di là della produzione che questa comporta, ha grandi opportunità di crescita, di sviluppo sociale. Attiene ai servizi alla persona, attiene alla capacità di sviluppare educazione e cultura per tutti, attiene all'ambiente sostenibile. E queste sono, come dire, tre aree nelle quali si sviluppano le attività del terzo settore e su queste noi vogliamo costruire il futuro del paese, i beni comuni in buona sostanza.